Da questo momento per voi c'è la musica di Bruno Power, la carogna e speciale cambio voce insieme a Sandro Replay. Un ringraziamento speciale a Ivan Talco. Grazie Ivan! E' la notte della grande tribù. La profezia diceva che coloro che si tenevano mano nella mano avrebbero vissuto per tutta l'eternità. Alziamo le mani! Benvenuti nel tempo della musica. Da questo preciso istante prende il comando Sandro Replay e Bruno Power. Wow Wow Wow! Wow 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 sono venute pure dalla Sicilia, Catania, Daniela, Desiree, benvenute! Un saluto grande a Dalina e a tutti gli amici dell'Albania, ciao! Pizzi, Moni, Alba Pasquale, Stella, Guido, Ema Bruno Paua Quando mancavano pochi istanti al denirio di gruppo, gli amici di Collegno, ciao! Alina, Eva, Stella, Ben, sotto shock Una volta la gente batteva le mani! Le mani! Tre metri sotto shock Le mani! Le mani! Le mani! Le mani! Le mani! Le mani! Bruno Paua Andiamo fratello, stappiamo via da questo pazzo mondo pieno di ipocrisia grazie alla musica e alla magia Tutto bene a casa? Saluti a tutti! Ciao! Ciao! Moni! Muoviti, 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 dai! Hai paura che ti si veda tutto il tuo coltello? Wow, 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 yeah! Come, 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 come! Wow, 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 wow c'è nessuno che bacca le mani ciao alex ciao andrea con i sospetti aggiunti evitati meditando mentre si non ci sto dentro andiamo fuori in questo mondo pieno di colori chiamami replay chiamami replay e ti dirò che sei sotto show giugna veronica saluto di saluto i ragazzi di collegno e grugliasco dove sei francesco più su delle stelle eeeh eeeh right down Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Perché si può andare al di là dei nostri orizzonti, basta solamente volerlo, crederci e il sogno diventerà realtà. Andrea Mauri, Luca, sotto shock. Il destino dei guerrieri. Sì, sì, sì. 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 È fatta la chioma nuova. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche. 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 attenzione abbiamo smarrito Grazie per la visione 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 Francesco Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 RUNO! Un applauso a Bruno Power, Sandro Replay! Sotto shot! Con le mani! Con le mani! Con le mani! Pi' veloce! Pi' veloce! Pi' veloce! URLA RIVERE! Mi è partita ma un pluscilla! Boom! Sempre, sempre sotto a show! NonINGING URALI owner Give me your fire! Un periodo come un tesoro nascosto nelle profondità del mare. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Abbiamo la dimostrazione che con la nostra musica si può volare Miu Su! Grazie per la visione!